Ciao ragazze, oggi sarà un mini video haul su un negozio ecobio della mia città dove sono stata appunto ieri, era la prima volta che entravo e ho preso un po' di cosine che stanno appunto dentro questa busta di carta perché comunque vendendo anche prodotti biologici e alimentari mi è andata questa bustina allora, ho preso l'olio di cocco Rapunzel come sapete, cioè perlomeno questo olio di cocco è venduto da NaturaSea infatti io l'avevo comprato là, però l'ho trovato anche in questo negozio insomma a stesso prezzo, e ho detto beh prendiamolo soprattutto mia madre è andata in fissa da quando ho fatto la maschera per capelli secchi appunto con l'olio di cocco, e ho detto andiamo a comprare subito l'olio di cocco e ho detto va bene mamma così compro qualcosina anche io quindi l'olio di cocco sarebbe per mia madre poi ho preso queste salviette struccanti della B.O.B. sono 25 salviettine, il prezzo non mi ricordo, all'incirca sui 3 euro più o meno e ho preso infine questa crema viso per la pelle impura e grassa, sempre della B.O.B. questa costava sui 12 euro e 30, 12 euro e 35 se non mi sbaglio e questa maschera l'ho provata un attimino ieri non mi è sembrata male, però ovviamente prima di darmi un'opinione voglio testarla un po' e eccola qua con sempre la pompettina, sono 50 ml di prodotto e all'interno c'era anche questo campioncino di scrub sempre della B.O.B. io della B.O.B. ho provato uno shampoo per lavaggi frequenti che appunto vi ho già recensito nel video dei prodotti terminati che vi lascio il link qui nell'info box e infine una cosa che mi farà tornare sicuramente in questo negozio è il fatto che appunto sei tu che scegli i campioncini che vuoi cioè ti spiego solitamente nelle mie profumerie o comunque anche in profumeria sono sempre le commesse che decidono che tipo di campioncino darti mentre in questo negozio c'era appunto un cesto ma una cosa veramente enorme pieno di campioncini guardate insomma ne ho presi un bel po' quindi vi faccio vedere anche questi allora questo è un fluido riuscite a vederlo per riparatore insomma di doppie punte della marca Capelli Venere che non l'avevo mai sentita nominare e quindi insomma lo testerò e ve ne parlerò magari se nei prodotti bocciati appunto promossi che farò a breve poi della marca Racconti Fioriti ho preso una crema profumata elasticizzante e rassodante al melograno, vite rossa, semi d'uva, oli d'oliva, i vinaccioli, cera di carité, vitamina C ed E che è questa poi sempre della stessa marca Racconti Fioriti ho preso il gel bagno dolce profumato tonificante e energiezzante corpo e capelli al melograno, vite rossa e semi d'uva che invece è questa poi ho preso della stessa marca una crema profumata nutriente e tonificante per il corpo ed è albao, botè verde, olio di macadamia, cera di carité, amido di mais e vitamina E poi della stessa marca ultimo campioncino ho preso uno shampoo doccia gel profumato stimolante per corpo e capelli sempre albao, botè verde, proteine di mandorle dolci poi di capelli venere la marca del fluido per le doppie punte ho preso uno shampoo all'ortica ed edera e crescione è uno shampoo rinormalizzante e sebe equilibrante appunto per capelli grassi e dice anche qua con forfora grassa ma io non ho problema di forfora soltanto i capelli grassi quindi proveremo poi sempre di capelli venere ho preso invece uno shampoo alla noce e alla china quindi uno shampoo per capelli scuri e lavaggi frequenti poi non so perché mia mamma ha preso questo per capelli chiari invece sempre lavaggi frequenti questa è la camomilla e alla biondella non ho mai sentito nominare e infine due campioncini di la linea allora cuore nel cuore linea mamma coccole per nove mesi non sono incinta allo specifico è una crema smagliature trattamento urto seno pancia fianchi e glutei eccola qua ne ho preso due dico vabbè la proviamo e niente ragazzi questo era appunto un mini video haul per farvi vedere appunto questi acquisti che ho fatto e tutti i prodotti che ho preso e compresi appunto i campioncini ve ne parlerò prossimamente appunto nei miei prossimi video e niente ragazzi io vi mando un bacio e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao